Immaginate un viaggio da sogno, quel viaggio che forse farete una volta sola nella vita. Immaginate che sia il vostro miglior regalo di nozze. L'emozione. White Wedding Web di Mr. White Travel. È l'innovativo sistema che agevola la raccolta delle quote da parenti e amici, vicini e lontani, raccontando il vostro viaggio attraverso singole emozioni. Ecco come funziona. La vostra lista è aperta sul sito della vostra agenzia di viaggi. I vostri invitati possono accedere molto semplicemente ad un'area privata e personalizzata con la vostra foto. Cena romantica sulla spiaggia a 150 euro? O un'escursione guidata a 50 chilometri per 250 euro? Vediamo. C'è anche voli interni a 500 euro e pernottamenti a 950 euro. Chi partecipa al regalo può scegliere una singola emozione, firmare da parte di una o più persone ed inserire una propria dedica. Si può effettuare il pagamento con carta di credito direttamente online, in assoluta sicurezza, ma si può utilizzare anche il pagamento tramite bonifico bancario o contanti. Il sistema tiene ordine e fa convergere in un solo gestionale tutto il flusso di dati. A pagamento effettuato, voi sposi riceverete una email con dedica e un SMS, mentre l'agenzia continuerà comodamente il suo lavoro organizzativo. White Wedding Web di Mr. White Travel garantisce la massima chiarezza e trasparenza, ed una grande rapidità, grazie al fatto che tutti i pagamenti vengono registrati automaticamente nel sistema, sia che avvengano online che presso la sede dell'agenzia. In più, tutti coloro che contribuiranno alla vostra lista nozze riceveranno un buono sconto da spendere per organizzare a loro volta i propri viaggi. Inoltre, se lo richiederete, potrete far visualizzare in tempo reale sulle vostre bacheche di Facebook le dediche e i messaggi dei vostri amici e parenti, incentivando così altri invitati a partecipare. Immaginate un viaggio da sogno, poi fatelo davvero, con l'aiuto di chi vi vuole bene. Al vostro ritorno, potrete caricare le foto più belle, tappa per tappa, emozione dopo emozione, nel sistema White Wedding Web. E Mr. White Travel vi regalerà un book fotografico da mostrare ai vostri parenti e amici. Aprite subito la vostra lista nozze scrivendo a questo indirizzo email. Grazie per la visione!